Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni pass Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Stasera mi sento male Solo al pensiero che non mi pare Di avere più una vita sociale Benvenuta a una nuova puntata Abbiamo ospite una cantautrice Maladie Ciao E questo punto Per chi non ti conosce oggi Nel tempo poi Nel tempo ti conosceranno molti di più Perché già tanti ti conoscono Come descrivi Maladie? Guarda, io direi che si tratta di un progetto Che è nato in un momento di difficoltà Dalle ceneri di un precedente progetto Che avevo col coautore con me dei brani Eugenio Cerocchi che saluto Durante la pandemia Avevamo da in qualche modo far risorgere Di nascere dalle ceneri Quel nostro repertorio che amavamo molto E anche avevamo voglia di creare qualcosa di nuovo Ma eravamo, diciamo, obbligati a farlo a distanza E così, stando in contatto Anche se a distanza Abbiamo creato E' nata Maladie des If Sublimando in qualche modo Quel vintage pop Che avevamo praticato Che avevamo visitato Con Isolati Fenomeni Che era il precedente progetto Ed è nato un modo di comunicare Molto colloquiale Molto sommesso Proprio perché volevamo uscire Isolarci un po' da questo contesto di oggi Nel quale tutti i messaggi Vengono veicolati urlando Non so se sei d'accordo con me Su questa cosa Sicuramente in questo mondo E' più facile urlare Ma anche in tutte le situazioni E' facile urlare Che parlare sotto voce Comunque parlare A una certa voce normale E a questo punto Parliamo del nuovo singolo I Kiko Mori Quando nasce questo brano Da cosa tra ispirazioni Come si è sviluppato Per poi ottenere il risultato Che tutti ascoltiamo? E' nato da una situazione Molto semplice Seguivo meglio Così distrattamente Mi è arrivato all'orecchio Un servizio televisivo Scientifico Su questo terribile fenomeno Di disagio sociale Che ha avuto Un'importante regrudescenza Proprio durante la pandemia Cioè quando siamo nati noi I Kiko Mori In giapponese Stare in disparte Quindi è un modo Per indicare L'isolamento digitale In particolare Ci sono molti ragazzi In fase preadolescenziale Cioè in età molto tenera Da 10-11 anni Fino a Oltre l'età A raggiungimento Dell'età adulta Che ad un certo punto Della loro vita E la pandemia Li ha stimolati Da questo punto di vista Li ha incoraggiati A farlo Si chiudono In se stessi Si chiudono in camera Non hanno più contatti Sociali Diretti Non si guardano più Negli occhi Con i loro coetane Con i loro familiari Non si abbracciano più Non si incontrano più Si incontrano soltanto Schermati Da uno strumento Telematico Il telefonino Il pc E tutto questo Diciamo Altera fortemente I rapporti E li tira giù In un loop Tossico Di isolamento Dal quale Non riescono più Ad uscire E Per quello Dicevo Il guaio Nella presentazione Del brano Noi diciamo Siamo sempre più soli E il guaio Che ci piace Diventa un loop Ha un effetto tossico Questo legame Con lo strumento digitale Che non si riesce più A A superare Comunque è molto difficile Da superare E così Ho pensato Mi è venuto Quasi di getto Di immedesimarmi Perché d'altra parte Non è molto difficile Per noi Tutti quanti Siamo toccati Chi più Chi meno Da Questa tendenza Di star sempre lì Dipendenti Anche io e te In questo momento Siamo in collegamento E non ci vediamo Di persona Questa è un'altra questione Una questione Di efficienza E comodità Però Ecco Andare a controllare Le notifiche Se qualcuno ha messo Delle reazioni Sui nostri social Se ci sono nuovi messaggi Su whatsapp E beh Cosa ho fatto Mi sono immedesimata In un disagio Di questo genere E come dicevo Non è stato difficile Ho aperto Whatsapp Ho aperto una chat Con una persona Con la quale Spesso Mi interfaccio E ho cominciato Con l'incipit Del brano Cioè con una frase Un concetto Che era molto legato A questo concetto Di disagio E ho iniziato Scrivendo Stasera mi sento male E ho lasciato Whatsapp Suggerire Le frasi successive Chiaramente Non è stato possibile Fare tutto così Perché sai Che un brano Deve avere una metrica Deve avere una logica Deve avere una Insomma Deve esprimere Un messaggio Insomma Quello che tu senti Di dire E non è facile Farlo Fare Allo strumento digitale Il fatto sta Che ho incontrato Perché lui ha Imparato Da me Dalle cose Che avevo precedentemente Scritto E quindi mi suggeriva I miei stessi pensieri Ho incontrato Una me stessa Che non riconoscevo E questa cosa È stata abbastanza Scioccante E nella realizzazione Visto che parliamo Di musica Parliamo di Realizzazione Dei brani Presci essere più Nei testi Longeva Descrittiva Oppure un po' Più sintetica Come nell'inglese Un po' Far capire Non far capire Oppure Sei proprio Espressamente Palese Nella descrizione Sono Se devo dire Grazie per questa domanda Sai che non me l'avevano mai fatta Sono abbastanza Semplice In espressione Sono abbastanza diretta Non vorrei dire Proprio di da scalica Sì Qualche evocazione C'è Ma difficilmente I miei testi Li trovo Difficilmente Poetici Nel senso stretto Del termine Cioè evocativi Di situazioni Diverse Da quella che Descrivono Però questa è una cosa Che lascio un po' Dire all'ascoltatore Perché poi sai Quando leggi Un testo Ognuno Ci vede Un po' Quello che ci vede Io sono Almeno Mi sembra di essere Molto diretta E molto Molto chiara Però Al di là del testo Le atmosfere qui Vengono fuori Molto dal Contrasto Con L'ambiente Musicale Il mood Che Non so se l'hai notato È abbastanza contrastante Con la storia Difficile Che viene raccontata È un mood Abbastanza Ballabile Abbastanza Mosso Quasi Al negro Si potrebbe dire E questo è stato Il contributo In primis Di Eugenio Cerocchi Che ha Creato le musiche Di questo brano E poi Questa veste Impalpabile Questa atmosfera Elettropop Molto aera Che gli ha regalato E di questo Siamo molto Molto Grati Clemente Ferrari Che gli addetti Agavori Conosceranno Sicuramente Forse Forse non è noto Al grande pubblico Ma Vanta Delle collaborazioni Importanti Anzi direi Che queste Collaborazioni Vantano Di aver lavorato Con lui Potrei dire Perché è un maestro Di livello Assoluto Come Fiorella Malnoia Max Garzè Francesco Gabbani Michele Bravi Insomma Lavoro Sull'orchestrazione Di tutti Questi Artisti Ai quali Io Mi inchino E quindi Siamo stati Molto fortunati Ad avere Con lui Questa Seconda Collaborazione Dopo un precedente Brano Ligami A volte Capita Che il brano La musica Si allegra Nonostante Il testo triste In fondo Lo stimola Un po' Il più And all again E tanti Altri brani Hanno dimostrato Che effettivamente La dance Può essere Veicolo Di Si dice Banale Ma in realtà A volte Porta dei testi Molto interessanti E invece Nella realizzazione Dei brani Nasce prima Un riff Un beat Oppure In questo caso Probabilmente Nasce prima Il testo Altrimenti Oppure possiamo dire Che accidentalmente Come in un'autostrada Si incontrano Parallelamente E navigano Percorrono Questa autostrada Insieme Guarda Su questo Eugenio Siamo molto Molto vari Nel senso Che in questo Caso È vero È come dici Si evince Insomma È nata Dal testo La canzone Però molto spesso Nasce da Un semplice Sai come Come succede In sala Quando si va lì Per provare Per trovare Idee nuove Può nascere Anche da un semplice Giro di accordi Siamo Abbastanza Disordinati Sotto questo profilo Può veramente Accadere ogni cosa Per quello che ci riguarda E invece Suonare dal vivo Perché è suonato Sicuramente dal vivo Qual è La sensazione L'emozione Che si prova Davanti Quando si apre Questa quarta platea Nel teatro Si chiama Quarta platea Ma in realtà Qualsiasi spettacolo È un pubblico Che inizialmente Poi è silenzioso Ma con quel silenzio Che tu sei concentrata Sul brano Però senti Quell'energia Che in realtà Loro ti mandano Dal palco Da sotto E poi tu Ritrasmetti a loro Qual è La tua sensazione Le tue emozioni Proprio così È una cosa A cui tengo Particolarmente Abbiamo avuto Uno showcase Questo sabato A Roma Al Buki Club Ed è stata L'ennesima Troppo rara Direi Emozione fortissima La musica Dirò una cosa banale La musica È condivisione Non nasce Per rimanere chiusa Nella cameretta Diciamo così O comunque Nello studio Dove Dove viene Nasce Dove viene realizzato Dove fluisce Ma Più delle volte O quasi sempre Direi Contiene Un pacchetto Di emozioni Una Una serie Di messaggi O anche Un messaggio Solo Racconta Una storia E una storia Non nasce Per essere raccontata A se stessi Nasce Per creare Un momento Di condivisione Un momento Di osmosi Di scambio Di emozioni Ed è una cosa Che va Onorata E purtroppo Possiamo Possiamo Onorarla Poco Poco Frequentemente Perché Lo saprai Meglio Di me È difficile Trovare contesti Che ospitino In modo Deciso Entusiasta E convinto La musica Di nuova produzione La musica originale L'orecchio Oggi È molto Comodo Si adagia Si adegua All'ascolto Del già sentito E questo Fa molto più comodo E molto meno Faticoso Ma Ci Ci ferma Ferma la nostra storia Ferma la nostra evoluzione Quindi auspico Davvero E penso Tutti I colleghi musicisti Lo auspicano Che le occasioni Per poter Presentare Musica dal vivo In set completi Full band Non soltanto In festival O Diciamo Rassegne Che hanno anche La loro rilevanza La loro importanza E spesso Sono prestigiose Ma anche In veri e propri Concerti A tutti i livelli Per poter Ecco Condividere Scambiare emozioni Con un pubblico Con le altre persone Non essere Degli isolati Non essere Degli Ikikomori E Invece Ti è capitato Poi di Uscire A incontrare Le persone Che ti hanno Ascoltato Li vedi Con quello Sguardo Se ti è capitato Con quello Sguardo Dove O ti citano Qualche frase O qualche parola Del tuo brano Oppure Li vedi Comunque Con quella faccia A volte Felice A volte triste Ma comunque Emozionato Con quegli occhi Accesi Che Gli ha regato Quella emozione E tu li guardi E oltre che Chiero Forse In testi Ma Qual è la tua Sensazione Vedendo Quegli atteggiamenti Se ti è capitato Sì Mi è capitato E E una gioia Immensa Mi Da La motivazione A tutti noi Da la motivazione Ti sembra Di essere Al mondo Per qualcosa Per qualcosa Anche di importante Per quanto L'arte O comunque La musica Non specifico Venga spesso Considerato Un semplice Intrattenimento Ma Io credo Credo molto Nella sua Funzione Sociale Nella sua Nel suo Contributo Al finale La nostra Umanità E Tornate invece Sul singolo Da chi nasce Questa copertina Anche perché Ci sono due colori Predominanti Qui Il rosso E il blu Da chi nasce Questa copertina Come si è sviluppata Per poi Ottenere questo risultato Intanto ringrazio Zoe Ferrara Un fotografo Artista Straordinaria Che ci ha Realizzato Questa Questa cover Che amo Moltissimo E È nata Da uno shooting In realtà Realizzato In vista Dell'atmosfera Di questo brano Considerante L'atmosfera Di questo brano Che è Un'atmosfera Che nasce Nell'arrato Nasce cupa Nasce claustrofobica E il gesto Invece Che è Presente Nella cover Se noti È un gesto Di apertura Vuole essere Un gesto Da una parte Di liberazione Dall'altra parte Un aggrapparsi Aggrapparsi Al mondo Aggrapparsi Alla vita Ed è un po' Quello che avviene Nell'evoluzione Del brano Ed il rosso Poi Il colore Energetico Se vogliamo Che è Soprattutto presente Sulle mani Della figura Nel punto Nel momento In cui Si aggrappa E apre le braccia E appunto Anela Aspira Alla vita Alla vita Aperta Alla vita All'aperto Alla vita Decisa Alla vita Anche leggera Ma con quella vita In comune Non rinchiusa In un buco E questo brano Vedrà la nascita Di un videoclip Oppure rimarrà Soltando Silico E così Solo ascoltabile E facciamo così Rimane nella stanza Ad ascoltarsi Da solo Senza Una rappresentazione Grafica No Già Esiste Un liric video Chiaramente Per poter anche Consentire Gli ascoltatori Di vedere bene Di entrare bene Nel testo Ma Siamo in attesa Che sia terminata La realizzazione Di una Non un videoclip Vero e proprio Ma una Presentazione Con lettering In forma di video Con un'animazione Realizzata Da una Ragazza Giovanissima Straordinaria Giada Mazzarella Siamo in sua attesa Che ha realizzato Le due precedenti cover Per noi Bellissime Di Origami E di Seneva E Una disegnatrice Straordinaria Nonostante i suoi 15 anni E quindi La saluto E anzi Giada Siamo in Previdante attesa Facci vedere Cosa hai fatto Questa volta A questo punto Progetti Oltre a promuovere Chiaramente Il singolo C'è già Oltre a elaborazione Noi brani Già studio Laboratorio Oppure Ide Del portare Tutto il mondo Live Sono in elaborazione Altri brani Speriamo di poter Finalmente realizzare Una raccolta Nel P Quanto meno Se non Come spereremo Addirittura un album E saranno Almeno un paio Saranno pronti Abbastanza presto Quello che abbiamo In programma A più a breve termine La partecipazione Ad alcuni Altri festival Di livello nazionale Saremo presenti Alla festa di Roma Videoclip Indy Grazie al videoclip Di Vivi Se Neva Già premiato All'ansio Film Festival Con la regista Viviana Iannizi Che ringrazio Per l'ennesima volta Ci tengo moltissimo E saluto E poi Alla festival Di scanto In Toscana A fine mese Entrambi gli eventi A fine mese E poi Vedremo Per un Nuovo live Non a lungo termine E invece Tornando un pochettino Sul brano Qual è stata La tua sensazione Vedendo Le facce Di chi Dall'altra parte Del vetro Perché stavi In sale di registrazione Ma in cui Hai avuto La parte finale Completa Le hanno ascoltato E ti ascoltavano Più che Ascoltare Le loro parole Le loro espressioni Qual è stata La tua sensazione Nel vedere Queste sensazioni Queste Appunto Perché tu stavi Dall'altra parte Quindi In un'altra stanza Però loro Ti guardavano E tu Quale sensazione Provavi? È stato bellissimo Perché lo canticchiavano Insieme a me Ne pensi abbiamo provato Due volte Più o meno Prima di Insomma Trovare i livelli I suoni Stiamo parlando Di incidere La parte vocale La parte diciamo Un po' Conclusiva Delle incisioni E lo canticchiavano Con me Dopo due ascolti Questa è stata Una cosa Bellissima Sai Quel momento Nel quale Magari Ti pensi Oh dai Ho preso Ho preso Un ritornello Non voglio dire Un tormentone Perché il tormentone Non è una Diciamo Non è sempre Non ha sempre Un'accezione positiva Ma Almeno Un ritornello Che buca In questo modo Forse il messaggio Importante Passerà E l'ultima domanda Viene spontanea Da questo mondo artificiale Dove l'intelligenza Le piattaforme Quanto effettivamente Può essere Vantaggioso Una piattaforma Per un giovane Di far conosce La propria musica Ho il rischio Che poi Si perda Nei migliaia Milioni Di brani Che ascono Giornalmente A cui anche Quelli Delle intelligenze artificiali Guarda Entrambe le cose Nel senso Che Sono comunque Strumenti validi Che ci possono Aiutare tanto In tante cose Della vita Importante Saperle dosare E non abusarne Per quanto riguarda Il fatto artistico Sono abbastanza scettica Sull'utilizzo Della intelligenza Artificiale Spinta Perché è proprio La parte Emozionale Che viene A depauperarsi A morire Per quanto riguarda Invece La possibilità Di presentare Al mondo La propria musica O la propria arte In generale Senza essere Necessariamente Intermediati La trovo Una cosa importante E interessante Perché Quanto meno Non resta Chiusa Nella cameretta Di cui parlavamo Prima Però C'è il Contrattare Quello della Dispersione Ed è vero Che può rimanere Poi Sepolta E dispersa Come goccia Nel mare Dei milioni Di produzioni Delle milioni Di produzioni Che vengono fuori Continuamente Bisogna avere Anche un team Intorno Da soli È difficile Ognuno Deve fare Il suo mestiere Noi facciamo La nostra musica E poi c'è Qualcun altro Che fa Il lavoro Di Presentarla Al mondo Noi non siamo Fatti per questo Almeno così Credo A questo punto Ci mancano Due cose Fondamentali Gli indirizzi Dove poterti raggiungere E la battuta Non gli indirizzi Di casa Ma chiaramente I social E le piattaforme Dove si Si fa conoscere Il lavoro E i saluti Finali Ma certo Basterà googlare Maladie 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 Des con S di Savona Finale I con F di Firenze Finale Troveranno tutti i nostri canali E profili social E poi Nulla Sarà facilissimo Trovarci E con questo Non so Ci salutiamo E spero appunto Che siano in tanti A venirci a trovare Ore di campione Pieno di energie Il sport di Ceno Game Ci porta In una nuova dimensione Con passione e coraggio Siamo pronti a brillare E Studio 7 TV Ci guida ad ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio Con onore Siamo pronti A dare il nostro meglio Con Pietro Come guida Il nostro spirito Non se rende mai Sport di Ceno Game Studio 7 TV L'intervista di Pietro Un cuore Di un campione Ogni atleta Ha una storia Ogni momento Un'emozione Con coraggio E con determinazione Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Stasera Stasera mi sento male Solo al pensiero Che non mi pare Di avere più una vita sociale e poi Stasera mi sentoiane